Ripartiamo proprio dalla mia missione delle parole, perché quello che ho fatto, ho mostrato prima a Gambe, da cui ha fatto riferimento Antonio Caprarica, era appunto un filosofo importante, che quindi credo che sappia come usare le parole, che però paragona l'attuale governo in carica a Stalin e a Hitler. Parla di resistenza per chi si permette di dire che i vaccini sono sperimentali, non bisogna vaccinarsi, e quindi certamente usa in maniera forse un po' spergiudicata alcune parole molto importanti, che tu tratti in questo libro, la parola democrazia, la parola libertà, e stiamo strattonando, che ne pensi di un signore che ha strumenti intellettuali, che dice una cosa del genere? Odio so autocitarsi, ma in un precedente libro, in un romanzo, io ho fatto dire a un personaggio, un personaggio femminile, che spesso le cose più stupide le fanno o le dicono le persone più intelligenti, nonostante il fatto che siano intelligenti, ma proprio perché sono intelligenti o preparate. La grande preparazione, la grande cultura, l'aver riflettuto, pensato e anche prodotto pensiero, come è il caso di alcuni di questi intellettuali, è una premessa in certi casi per dire cose molto stupide, o in certi casi terribilmente immorali, perché esiste un limite di moralità nell'uso del linguaggio, esiste un limite di moralità nell'istituire paralleli che sarebbero grotteschi, ripeto, se non fossero immorali, come quelli che si riferiscono al nazismo o allo stalinismo, non solo e non tanto per i destinatari dell'ingiuria, ma per chi ha subito terribili conseguenze da dittature spaventose. Naturalmente, detto questo due parole soltanto sul fatto che spesso certe uscite, certi comportamenti, in alcuni casi pittoreschi, in altri surreali, in altri ancora immorali, sono il risultato, nuole dirlo, di un problema narcisistico, cioè mi si nota di più in un modo o mi si nota di più in un altro. Io questo l'ho detto e lo ripeto e sono ovviamente disponibile ad argomentarlo, ma il problema è che di fronte alla totale inconsistenza e alla immorale inconsistenza di certe affermazioni, la domanda, come si dice, sorge spontanea e la risposta viene abbastanza naturale.